Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre SanGamer26 e oggi siamo sullo speciale intro. Perché ho dovuto fare questo speciale? Vi spiego subito. L'ultimo intro non è che era un gran che. Allora, in questi ultimi giorni mi sono dedicato a creare un gotto di intro, per fortuna con il mio computer nuovo. Perché ho dovuto fare centinaia di intro? Perché mi sembriamo simili a quelle degli altri youtubers, probabilmente tanti usano i stessi siti. E tra le tante intro ne ho scelto tre. E le ho detto voi, tra queste, qual è la più bella? E via, partiamo con la prima. Come ho detto ho creato la cartella intro e qui ci sono tutte e tre le intro. Infatti adesso noi apriamo la prima e buona visione. Ragazzi, questo intro mi è piaciuto molto perché mi piaceva, insomma, il colore arancione che è sempre stato il mio colore preferito e lo è ancora. Adesso passiamo alla seconda. Anche la seconda mi piace perché rappresenterebbe lo sfondo del mio canale, cioè quello azzurro. E adesso passiamo all'ultima, cioè la tre. Ragazzi, questo mi piace perché l'animazione anche qui sta fatta bene, devo dire che anche l'animazione è più bella, per me è quella della seconda, però per me sono tutte e tre belle. Quindi ragazzi, se volete che io usino di quest'intro, lasciate like e nei commenti dite a quale intro avete lasciato like. Tipo se avete scelto la 1, io farò la 1 e se avete scelto la 2 e la 3, io farò o la 2 o la 3. Ragazzi, adesso voglio anticiparvi l'argomento del prossimo video, appunto, lo speciale 50 iscritti. Io voglio ringraziare ovviamente i miei 50 iscritti, uno per uno, uno per uno. Scusate, ragazzi, non spaventatevi perché io non conosco tutti i miei iscritti. Poi tanti dei miei iscritti hanno anche le iscrizioni private, quindi non posso capire se praticamente sono iscritti al mio canale o non lo sono. Ragazzi, cercherò un modo per farcela, per ringraziarvi. Per questo video è tutto, ragazzi, lasciate like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!